Sono affascinato dall'incarico, sono affascinato da questa città, mia madre è nata a Napoli, a Napoli ho lavorato e lo farò con grande impegno. Un passato da poliziotto, poi prefetto di Roma, questore ed attuale senatore dell'Udc, Achille Serra avrà il ruolo di supercommissario anticorruzione al Comune, toccherà a lui individuare i processi virtuosi della pubblica amministrazione e garantire la massima trasparenza nell'assegnazione degli appalti di servizi e forniture. Con il sostegno di funzionari e professori universitari, l'ex prefetto svolgerà il suo incarico a titolo gratuito e sarà a capo di una struttura creata ad hoc sulla scorta del protocollo di intesa di maggio scorso tra Comune, Funzione Pubblica e Viminale. Ci sarà una struttura amministrativa con personale, poteri, gratuito assolutamente, noi non cacceremo un euro e anche per questo li ringrazio, ci sarà una struttura operativa, potranno acquisire atti, è molto importante perché quando si parla di corruzione il danno già c'è stato. Qui vogliamo prevenire, in modo che i cittadini sempre di più sanno di poter contare una pubblica amministrazione che non è trasparente solo il sindaco o i suoi assessori, ma è trasparente tutta la macchina, sono trasparenti le procedure. La nuova autorità, garante anticorruzione e trasparenza istituita dal Comune, si avvarrà del contributo del docente di diritto amministrativo alla Federico II Giovanni Leone e del funzionario della Prefettura Salvatore Carli ed avrà il compito di verificare eventuali infiltrazioni illecite nelle gare con particolare attenzione anche alle società partecipate. Sarà un organismo autonomo senza alcuna interferenza politica, ha ribadito il sindaco De Magistris, che non ha nulla a che vedere con la sostituzione dell'ex assessore Giuseppe Narducci. Narducci era una nomina politica, è stato assessore, Serra è una nomina amministrativa, istituzionale, di garante, in piedi di completa autonomia. Narducci aveva un ruolo politico, ha deciso di rimettersi, è cosa completamente diversa.